Sembra essere sicuro che Laura Forgia, questa bellissima donna di 34 anni d'età, affiancherà il simpaticissimo e in gamba Giancarlo Magalli nel programma televisivo I Fatti Vostri. Prende dunque infatti il posto di Adriana Volpe per il fatto che ci sarebbe stato un momento non proprio di più idiliaci tra i due tempo fa. Che dire, Laura Forgia è una bellissima donna, un fisico scultorio, una sensualità marcata per una donna dagli occhi azzurri, dallo sguardo profondo, dai lunghi capelli di colore biondo, quindi probabilmente anche ramato, ma soprattutto dalla immensa sensualità. Bene, complimenti dunque a Laura Forgia, complimenti al simpaticissimo Giancarlo Magalli, a entrambi auguro un proficuo lavoro all'interno della RAI e spero che per entrambi il rapporto di lavoro sia bello duraturo. Bene, saluti, iscrivetevi a presto.